Si indaga a 360 gradi perché sembra finora un omicidio senza movente secondo gli investigatori quello compiuto nella tarda serata di ieri a Rione San Paolo di Bari in cui è stato ucciso Michele Amedeo di 50 anni dipendente dell'AMIU. Contro l'uomo sono stati sparati tre colpi di pistola calibro 9 corto dei quali lo hanno colpito al torace e all'addome. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti della squadra mobile e della polizia l'uomo in turno notturno e addetto alla conduzione degli idropolitrici ha parcheggiato la sua lancia Y nel parcheggio di fronte all'ingresso dell'azienda. Ha fatto pochi passi ed è stato affiancato da un'auto dalla quale qualcuno ha fatto fuoco con un'arma semiautomatica. I colpi sono stati sentiti da alcuni colleghi della vittima che si trovavano nei pressi dell'ingresso dell'azienda che hanno visto il collega casciarsi al suolo e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunte per prima le pattuglie delle volanti ed è stato proprio al poliziotti che l'uomo ancora lucido ha riferito la dinamica dell'agguato ma ha detto di non aver riconosciuto nel mezzo sul quale viaggiava il killer né di conoscere il muovente del ferimento. A Medio è stato quindi condotto in ambulanza in ospedale dove è morto. Nella notte sono stati ascoltati i colleghi di lavoro della vittima, la moglie e le due figlie. Delle audizioni non è emerso alcun elemento utile ad inquadrare il muovente del delitto. L'investigatore indagano a 360 gradi ma non pare che l'uomo abbia mai lamentato problemi di alcun tipo tantomeno sia stato protagonista di litigi. Le indagini sono coordinate dal PM Marco D'Agostino.